Su Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. A tu per tu con i protagonisti della musica, dell'attualità, del sociale. Ed eccoci rientrati dopo la spada nel cuore, un pezzo non a caso, perché in compagnia con noi ci sono i magnifici tre. Chi siete ragazzi? Fatemelo sapere! Ciao, sono Cristiana. Cristiana, ciao. Sì. Ciao Cristiana. Poi chi abbiamo? Abbiamo Angelo Petrucetti, eccolo qui presente. Lancia la palla al caro amico... Davide De Marini! Oh, che bello, che bello. Abbiamo la Little Tony Family e Davide De Marinis in collegamento con noi. Come va ragazzi? Dove vi trovate soprattutto? In che paese? Beh, io dato che vedo che sono inquadrato, io mi trovo a Milano in questo momento. Sul divano di casa mia e devo dire la verità è comincia a fare caldino, anche se siamo ancora a maggio. Bene. Noi siamo a Roma invece. Bella Roma. Hai due poli imposti di Roma, io andrò, perché io Roma Sud e lui Roma Nord, però insomma a Roma. Ok. E Angelo dove mi trovi? Eh, io mi trovo in casa e Cristiana invece se ne sta tranquillamente al mare, perché lei non lo dice, non dice dove si trova. È vicino a Ostia, capito? Quindi adesso fra un po' si prepara assieme a fare un bagnetto, perché fa un caldo terribile oggi. Beh, si preparerà anche... Beata, beata lei, beata Cristiana. Si preparerà anche la tintarella in occasione dei prossimi concerti, direi anche. Allora... Assolutamente, assolutamente. Cari ragazzi, vi chiedo una prima domanda. Come nasce l'idea di creare questo gruppo? Ma I Magnifici 3, in realtà è nato questo trio molto bello, perché io mi trovo benissimo, è nato proprio per il video, perché nel video il regista Stefano Cesaroni ha avuto l'idea di costruire tutto intorno a un fumetto, la storia del video, e noi nel fumetto siamo I Magnifici 3. Allora la cosa non ci dispiaceva, ci piaceva e abbiamo mantenuto questo nome, perché si sposa benissimo con la canzone Bon Bon, che è il nostro brano, e ci rappresenta bene, perché sono due mondi che si sono incontrati, il mondo del rock'n'roll e il grande Little Tony, con la figlia Cristiana Ciacci e Angelo Petrucetti della Little Tony Family, e Davide De Marinis, che invece è più pop, ma insieme a Cristiana e ad Angelo, mi sto facendo crescere il ciuffo, insomma. Infatti questo è stata una nostra richiesta, ha fatto Davide, puoi stare con noi solo se ti fa crescere il ciuffo, perché a noi serviva proprio il ragazzo col ciuffo, capite? Io non ho i capelli, non sono come i suoi, quindi ci serviva il ragazzo col ciuffo, che è un pezzo storico di Little Tony appunto, eccolo là, ce l'abbiamo, vedi? Però lui si è anche organizzato in maniera diversa, perché se non fa in tempo a crescere il ciuffo, ha la parrucca. Guardate la mia parrucca, questa è la parrucca proprio di scena che ho indossato e ho indossato durante il video di Bon Bon, non so se la vedete. Io ho avuto modo di vedere il video e ho avuto modo di vedere quella parrucca, pensavo fosse così solo per il momento, ma in realtà la usi anche per gli spettacoli. Eccomi, guardami, Davide, sei pronto? Non succederà molte volte questa cosa? No, dai, intonaci qualcosa, intonaci qualcosa, dai. Magnifico, per cui tra di voi, oltre che questa collaborazione musicale, esiste anche una grande amicizia, un gran divertimento quando fate musica. Ma sì, assolutamente, il divertimento è lo spirito insomma del gruppo, perché bisogna veramente essere, abbiamo un'energia poi insieme, incredibile, sul palco ci diventiamo da pazzi, quindi è una cosa fantastica, la musica che comunque lega, che unisce e poi ci fa scoprire poi le nuove amicizie, che di Bon Davide è stata una cosa fantastica, è una cosa molto bella, spontanea, non è che sia costruita assolutamente, quindi è fantastico. Io sono felicissimo anche Cristiana di collaborare con Davide, perché è un ragazzo fantastico, veramente, un grande autore poi, ecco, quindi, cioè. Grazie. È vero, è vero, fratello, è vero, è vero. Ma dove vi trovate a provare? Perché, cioè, penso, Roma, Milano, cioè, vi trovate a metà strada, salite a Milano, scendete a Roma, come funziona? Ma provare per le serate, per i concerti, ma quello, guarda, siamo così in sintonia, che scegliamo le canzoni con la band e proviamo e poi ci troviamo, insomma, è molto semplice, poi tra professionisti è facile, no? Perché, insomma, ognuno di noi ha dato esperienze diverse, comunque, sono anni che facciamo questo mestiere, quindi è facile trovarsi... Poi, ecco, ripeto, è una questione di chimica, come dice anche un'altra canzone, però, ecco, quando ti trovi con una persona basta portare uno sguardo per poter fare, ok, partiamo, e così partono, e così partono anche le canzoni. E comunque posso dire una cosa che poi adesso continuerà a dire Cristiana, perché il boss è Cristiana, possiamo dirlo, Cristiana Ciaci, ecco lei, che noi ci dirige, adesso abbiamo appena fatto una bella serata a Genzano, e noi, io, ovviamente, umilmente, e anche Angela, eravamo in ginocchio ai piedi di Cristiana, perché lei è ovviamente Cristiana Ciaci, vero, Filippo? Allora, io direi che adesso andiamo a vederci un video di un grandissimo cantante e musicista rock'n'roll, Elvis Presley, e torneremo qui in studio e parleremo di Bon Bon. Su Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. Ed è giunto il momento di conoscere come nasce il nuovo pezzo Bon Bon dei Magnifici 3. Allora, con chi dei tre parlo adesso? Beh, Cristiana. Vai, Cristiana. Allora, anche se l'autore, insomma, è Davide, il realizzatore che ha aiutato, insomma, a mettere su il pezzo è Angelo, quindi io magari sono la meno adatta, però ho, durante le interviste, ho ascoltato i racconti di Davide, quindi so che questo pezzo è nato più o meno un anno fa, su quel suo bellissimo divano dove ha accomodato ora. E quindi lì mi è venuta l'ispirazione per Bon Bon, poi l'ha fatta ascoltare prima ad Angelo, poi a me ci è piaciuta molto e insieme ad Angelo hanno curato, insomma, la realizzazione del pezzo, con tutti gli strumenti suonati dal vivo, insomma, tutto quanto. E il titolo cosa significa? Perfetto, Cri, perfetto, meglio non potevi dire, bravissimo. Magnifico. Ma il titolo cosa significa? Il titolo in portoghese, sono preparata, eh? Il titolo in portoghese significa bene, bene, noi vogliamo shakerare bene e allegria per tutta l'estate, tutto l'anno, tutta la vita, sempre. Vai, Angelo! No, la grande, ma poi Cristiana è il numero... Venti minuti di applausi ininterrotti! Vai, stand innovation, stand innovation, alziamoci in piedi. Ma questo pezzo... No, è così però, è così, noi ci proviamo, è la nostra, tra virgolette, missione per quest'estate, perché credo, dai tanti messaggi che ci arrivano, e tante persone che comunque ci fanno i complimenti per questa canzone. Il fil rouge, quello che lega tutti i messaggi, è questa energia che con questa canzone noi riusciamo ad emanare, e tutti dicono ce n'è bisogno, finalmente c'è bisogno di una... meno male che avete fatto una canzone come questa, perché c'è tanto bisogno di allegria, di un pensiero, di un modo di affrontare questo nuovo periodo con energia. La canzone Bon Bon racchiude tutto questo. Beh, diciamo che è una canzone che ci fa saporare un po' Little Tony, però nello stesso tempo ci porta al ritmo estivo, per cui ci mette il rock'n'roll, ma il ritmo estivo, per cui è una canzone molto allegra, e poi ovviamente i toni in maggiore sono... ti fanno ballare, cioè... Sì, sì, noi abbiamo usato tre accordi, ma li abbiamo usati bene, li abbiamo usati, e tutti e tre maggiori. Se parliamo di canzoni nate con tre accordi, abbiamo l'intramontabile, la canzone del sole, che tuttora si canta, per cui non è detto che sono tre accordi e allora una canzone povera, no? No, 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 assolutamente. L'obiettivo di una canzone, secondo me, dovrebbe essere sempre quello di essere cantata da tutti e per tutti. E nella nostra Bon Bon questi requisiti ci sono. Magnifico. Allora, prima di continuare a parlare di Bon Bon, io direi di andare a vederci il video e ci ritroviamo tra pochissimo. Su Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. Detto tra noi! Io sto un po' sorridendo perché adesso c'è una domanda. Come partono, come iniziano i vostri concerti? Questo è un momento pesante, Davide, attenzione. Beh, io semplicemente, perché mi piace all'inizio partire, come si dice, col botto, inizio spogliandomi. Ah, ok. Mi spoglio, mi metto un pochettino covo, sai, l'estate fa caldo. E poi parte. No, scherzo. Sì, ma a mio che entri con la parrucca però, ti spogli per fare la parrucca, attenzione. La domanda fondamentale è la parrucca, c'è o no? La parrucca, assolutamente sì. La parrucca è, guarda, io vi dico una cosa, vado a dormire con questa. Ah, cioè, beh. Ormai ultimamente, perché mi fa anche da cuscino, e mi metto lì, pam. Voi, voi non sapete, ma Cristiana mi ha fatto l'esame del ciucco quando sono entrato nei Magnifici 3. La prima cosa ha fatto, questo De Marinis non mi convince troppo, fai crescere, mi fa. Fai crescere e fatti la tinta, mi fa. Ma sono già di più, tinta nero corvino. Ma è così, sono delle regole. Che sia io che Angelo dobbiamo sottostare. Ma tu lo sai che Tony la mattina quando si svegliava aveva già i capelli tutti già fatti? Non ci credo. Come faceva? Ti giuro, Tony, una mattina quando andavi a svegliare, si alzava da letto, aveva già i capelli già impostati, così come lo vedete. Impostati, bellissimo. Impostati, infostati. 20 minuti di applausi per te. Comunque. Ti stai spogliando anche tu, praticamente, diciamocelo. Beh, ma io da giovane avevo un po' il capello, un po', come si dice, un po' la damide. Ti ricordi, Cristiana? Insomma, a moda, da qualche anno... Ma eri giovane! Ero un ragazzino che mi scambiano per il figlio di Tony. Mi scambiano per il figlio di Tony, ma lui è il tuo figlio, a che dì? Mi sono fatto delle scelicapelle. Senti, Angelo, non vorrei dire, ma tu inizi a spogliarti già, ti sto vedendo il petto villoso. Vedi? Ragazzi, questa intervista non è in seconda serata, premetto, eh, attenzione. Ti ha buttato sopra, hai il topo che si è aperto. Ricordiamo ai nostri telespettatori che Cristiana Ciacci è la figlia di Little Tony, Angelo è invece un collaboratore, lavorava tantissimo a stretto contatto con Little Tony. E assieme loro due hanno creato la Little Tony Family. E è una cosa interessante, come fanno a svolgere i concerti? Perché vanno a duettare con Little Tony. Come si svolgono? Se lo volete raccontare? Allora, i nostri concerti, papà ovviamente è il fulcro, è il centro, viene proiettato su un grande schermo alle nostre spalle e canta alcune frasi delle sue più belle canzoni con noi, io ci faccio addirittura due duetti. E quindi, insomma, tutto l'intero spettacolo è incentrato su di lui, giustamente, e su quello che è stato il suo mondo anche. Quindi i suoi più grandi successi, ma anche Rock and Roll, Country Music, e poi i nostri singoli che abbiamo fatto in questi anni della Little Tony Family. Ma come è nata questa idea qui di portare vostro padre, cioè tuo padre, scusami, proiettato nello schermo? Cioè, raccontaci. Sai, papà ci ha chiesto di formare le Little Tony Family, di portare avanti la sua eredità musicale, e quindi era ovvio che i nostri concerti si basassero su lui, sulle sue canzoni, sulla sua immagine, sul suo mondo. E ci fa in me il messo piacere, perché comunque per me è un poter, è un modo per ritrovare papà. Noi ci ritrovavamo spesso, conducevamo vite separate e ci ritrovavamo spesso sul palco. E poi in qualche modo continuiamo, in questo modo, a ritrovarci sul palco. E poi è bellissimo, perché papà continua a vivere, non solo nel ricordo delle persone che lo vengono ad ascoltare, ad ascoltare le sue canzoni, ma anche con l'immagine. Ed è una grandissima emozione anche per noi, che siamo sul palco, perché, ripeto, l'abbiamo vissuto tante volte, in tantissime tournè, per tantissimi anni. E anche per le persone sotto, quando papà appare in questo grandissimo schermo e canta, è come se fosse lì, realmente. Quindi è un grandissimo impatto emotivo. Quando ci duetto, addirittura, insomma, è veramente emozionante. Che, oltretutto, Cristiana, tu hai avuto modo anche di fare degli studi artistici, cioè hai studiato ballo, hai studiato anche musica, giusto? Sì, io ho studiato danza da quando avevo quattro anni, quindi la danza è stata il mio mondo per tantissimo tempo. Poi, per stare dietro, insomma, anche a papà, ballavo, anche durante i concerti, per tanti anni, sulle canzoni di papà, durante i suoi concerti. Però poi presentavo anche, facevo il coro, doettavamo insieme. Insomma, ho cominciato dalla danza e poi ho ampliato gli orizzonti, diciamo così. Magnifico. Allora, adesso andiamo a vederci un video con Luce di Elisa e ci ritroveremo tra pochissimo a fare altre domande a questo trio. Su Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. Ed era Luce di Elisa e in collegamento con noi abbiamo i Magnifici 3. Abbiamo scoperto poco fa come si svolgono i concerti della Little Tony Family, ma non sono solo, esclusivamente, con Little Tony proiettato e, appunto, voi tre, ma avete anche un corpo di ballo. Sì, noi siamo otto persone sul palco, ci sono quattro musicisti e due ballerine. Io e Angelo, insomma, siamo otto. Più papà che Tony ne sovrasta tutto quanto, quindi... E in tutto ciò, Davide De Marinis? Ebbè, Davide, speriamo... Io sono una delle ballerine. Ah, ok. Mi metto un'altra... No, io porto la mia... Ovviamente le mie canzoni, porto... Parto da Troppo Bella. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella per me. Poi canto le mie canzoni, quella di Sanremo, quelle del Festival Bar, Gino, La Pancia, ovviamente. E poi do anche uno spazio alle imitazioni che ho fatto a tale e quale. Sai che io ho fatto tale e quale un paio d'anni fa con Carlo Conti e alcuni personaggi mi sono rimasti un pochettino attaccati addosso, anche se io non sono un imitatore, non ho mai fatto imitazioni, però tipo... Ehi, già, come stai? Tu vasco? Ehi, Davide, tu dove sei? Io sono Isoca. E mi ricordi te? Adò al parco. E queste cose sono diventate un momento anche ironico del mio concerto che si fondono. Ah, tra l'altro io a tale e quale ho anche imitato il grande Little Tony. Ovviamente non mi sono neanche lontanamente avvicinato a Little Tony, perché non è tra le imitazioni che mi sono riuscite meglio. Però questa cosa è nata ancora prima che poi nascesse l'amicizia con Cristiana e con Angelo. Quindi era destino. E io porto un po' il bagaglio di questi vent'anni di musica che ho fatto e si uniscono, credo bene, al mondo della Little Tony Family e vengono fuori due ore di spettacolo meravigliose. Una domanda adesso per Angelo. Sì. Come è nata la tua amicizia con Little Tony? Rispondi, Angelo! Perché sorride? No, no, rispondi con il coraggio. No, no, rispondi. Fala raccontare a quella signora con le unghie gialle. No, no, l'ha chiesto a te. No, io mi rifiuto, adesso parmi te che c'hai le unghie gialle oggi a forma di zucca. Dai, da strega, racconta, vai, dai. Allora, Angelo, è stato il mio primo fidanzatino. Ah, hai capito. Ecco, io avevo 16 anni e lui 21. C'erano insomma i dinosauri ancora, giravano. E quindi siamo stati fidanzati sette anni. Io poi vivevo col papà e quindi come ci siamo messi insieme io l'ho dovuto portare a casa. Perché papà mi lasciava uscire. Se non gli presentavo insomma il mio fidanzato. E quindi l'ho portato a casa e fatti raccontare da un incontro insomma. Com'è stato l'incontro? No, ma a parte l'incontro ma anche la telefonata, no? Perché mi telefonò Tony e mi disse Senti, ma tu che macchina hai? Ti ho fatto io, c'ho molto poco il senso. Riti, riti. Io ho fatto, ma io lo cazzo, perché c'è, forca mi sapevo, no? Ah, Fernari, che ti dico. Ma Tony ho una Fiat, c'avevo una velo bianca. Ero appena patentato, quindi avevo una macchinetta piccola. Ma lui voleva sapere della macchina. Non perché si aspettasse che ti fossi. Ma più che altro per avere una macchina che andasse piano. Perché lui aveva il terrore della velocità degli incidenti. Quindi voleva che io andassi piano con la macchina. Quindi era un fatto di cautela da parte sua. Ho detto, no, no, Tony. Poi però in Ferrari mi ci ha portato qui. Perché mi viene delle fede. Siamo andati spesso a San Marino in giro con le Ferrari. Mi ha lasciato guidare anche la Ferrari. Ma questo dopo che lui poi ha preso conservevolezza delle mie capacità, insomma, e della mia tranquillità e della persona che ero. Perché altrimenti mai mi avrebbe messo in mano una Ferrari e quindi poter guidare. Fra i vari aneddoti che riguardano gli Iteltoni ce n'è uno in particolare, che riguarda in parte anche Radio Birichina. Chi lo sa? Conosco, io lo so, io lo so. Certo, lo so benissimo. Allora, Radio Birichina, la prima canzone mandata in onda da Radio Birichina è stata a cuore matto. Questo l'ha raccontato sempre, l'ha raccontato Roberto Zarella. Sai quale è stata la prima canzone che ho messo in onda? A cuore matto. È stata un portafortuna. Quindi, questa o no? Era questo che volevi chiedere? Sì, è stata nel lontano 1989. Per cui sì, è questo. Allora, io direi di andare a gustarci il cuore matto di Iteltoni e ci ritroveremo tra pochissimo a scoprire le date e i tour E con i Magnifici 3 stiamo scoprendo un po' la storia di Iteltoni, qualche aneddoto, ma soprattutto il nuovo singolo Bon Bon. Allora, Magnifici 3, quali saranno le date del tour? Le date sono in costruzione. Siamo con il calendario aperto, stiamo con i nostri impresari mandando, perché noi siamo usciti veramente da poco e quindi stiamo montando lo spettacolo e tutte le date saranno a breve presenti sui nostri social sul mio Davide De Marinis sia su Instagram che su Facebook e ovviamente sulla pagina della Little Tony Family. Diciamo che ci sono in calendario delle cose e dei posti molto interessanti ma noi vogliamo andare in tutta Italia. Abbiamo aperto però qualche giorno fa Gensano l'infestazione bellissima un rock per un bambino e tra l'altro c'era anche Riccardo Fogli, Zarrillo e abbiamo fatto un evento fantastico. Tutto esaurito, diciamolo perché comunque è stata una manifestazione che ci ha visto partecipi e abbiamo contribuito anche noi a fare tutto esaurito. Ecco, quindi adesso stanno uscendo i vari impegni e quindi li tendremo informati sulle nostre pagine social su Instagram e Facebook. Per cui una cosa molto importante e una cosa da far conoscere è che sui vostri concerti di certo non sono dei concerti di ascolto e basta da star fermi, seduti e ascoltare. Si può ballare tantissimo. è vietato, adesso è vietato, è veramente vietato star fermi. Poi è possibile, da credimi, è da provare per credere perché con noi è impossibile stare fermi, seduti, ad ascoltare la musica. Qui c'è da muoversi, c'è da ballare, c'è da fare tutto. Ma certo, ma poi con un ritornello così ma 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 andiamo in orbita senza problemi shakerando questa libertà ma 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 per cui ci aspetteremo di sentirlo praticamente in loop, in radio. Assolutamente, assolutamente bisogna romparla più possibile perché viene solo allegria, felicità bisogna bisogna trascorrere queste strade veramente con la spensieratezza e quindi abbiamo veramente bisogno. Che è quello appunto che serviva in questi anni. Esatto, assolutamente. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con noi aver presentato il pezzo Bonbon e aver avuto l'onore anche di conoscervi. È stato un piacere. Grazie Davide. Grazie mio, grazie Davide. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Birichina TV. Grazie, grazie. E a voi amici di Birichina TV vi rinnovo l'appuntamento per le dediche richieste al 393-7366-700. Per il momento è tutto da Detto Tra Noi e da Davide. Il pomeriggio su Birichina TV è Detto Tra Noi. Detto Tra Noi. Detto Tra Noi, l'intervista del giorno. Seguici sui canali del digitale terrestre di Birichina TV.